Musica Ciao a tutti i lupi del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video in compagnia di ResCorpion98 Ciao a tutti ragazzi E siamo qui sul... Ok, allora Siamo qui sulla... Siamo qui sulla... Vai Fare un altro episodio di questa fantastica serie Allora, cosa faremo in questo episodio Charlie? Allora, in questo episodio cominciamo un po' con la Tinkest Construct Perché è la mod più utile In quanto ci permette di prendere tanti materiali in modo facile Come per esempio grazie a Lummer, grazie alla Lumber X Che ci permette di buttare giù tutto un albero, eccetera, eccetera E questo ci permetterà poi in seguito quindi di fare altre cose grazie ai tanti materiali che riusciremo a prendere Allora... Poi raga, come potete vedere abbiamo ucciso anche dei pipistrelli E quindi adesso ci possiamo trasformare Mentre eravamo in caverna e scavavamo abbiamo scavato davvero tanto Guardate quanto abbiamo scavato Sì, è vero, abbiamo fatto un sacco di cose Siamo usciti dalla caverna grazie a questi pipistrelli Sì, che ho... Che li siamo trasformati e ce ne siamo andati È davvero molto comoda questa mod Sì, infatti, così ci permette di volare in giro senza dover spendere ore e ore e ore a camminare Allora... Tanto guardate che belli i biomi qua, davvero fantastici Il mio preferito è quello verde laggiù È quello che in assoluto amo di più, non so perché, infatti mi piacerebbe costruire una casa lì, però è un biomo un po' troppo laggoso Sì, eh infatti, infatti sto notando Allora... Sennò qua mi esplode tutto Cosa dobbiamo fare? Eh, cosa dobbiamo fare? Oggi dobbiamo craftare questi materiali della Trinkers Construct Apri il libro, hai visto quello beige Quindi io crafto il blank pattern, tu lo stencil table Ok, qual è il libro quello grigio? Cioè quello marrone? Quello marrone, sì Allora, vediamo dove ho lasciato... Stencil table devo fare io? Eh, lo stencil table, sì Quindi prima devo fare il blank pattern Allora Ma che vedo quello che fai? Eh, sì, mi sa che ti conviene craftarti un'altra... Cioè, tu non avevi un'altra crafting table? Sì, eccola qua Sì, sì, eccola, eccola Mettila vicino alla cesta, così se ti serve il line Va bene, va bene Allora, vediamo un po' Facciamo questa cosa Allora, ce l'ho io un blank pattern se vuoi Ah, sì, grazie Tieni Poi, vediamo cos'altro serve... Serve... Ah, ha un altro blank pattern Ok, io ho fatto il tavolo e la stencil table Dove lo devo mettere? Mettilo, guarda qua Facciamo un'area Trinkers Construct Sì Oddio, scusa Oh, ok Poi raga, ci faremo anche una casa per il momento Però andiamo avanti Sì, perché è pronta per farci una casa Ci servono questi qua, questi materiali Ok Poi tu stai facendo il partcafter Eh, sì, mi sa di sì Dobbiamo fare il pattern chest, cos'è? Sì, tu hai il pattern chest Io faccio la tool station Quindi mi serve una crafting table Va bene Io mi scordo il crafting, oh, aspetta Mintico Allora, come si fa? Ok Ok, quindi Stavo facendo un casino perché Ci sto pure io in mezzo Ah, ma si fa qua? No Sì, si fa qua Non litigare con... Eh, mi sto un po' impiccando io, aspetta Ok Sì, perché ho fatto un altro blank pattern, vabbè Aspetta Allora, io adesso devo fare la cesta Eh, esatto È molto semplice Ok Una cesta E poi facciamo così Oh, eccola qua La pattern chest Dove la metto sempre qui? Eh, vicino a questo Questo qui marrone Vedi, questo con le gambe più scure Non so come si chiama Sì, ho capito La part build Part builder Davanti lo metto Eh sì Poi, vediamo cos'altro serve Bello Poi dobbiamo anche andare a cercare della clay Che ci serve per costruire la fornace Ah, poi ci serve Già ci serve la clay Quindi Ci conviene andare a cercare Allora, andiamola a vedere Allora, dove è che si può trovare? In quale bioma? Eh, nel mare Solitamente si trova nell'acqua Nei laghi, eccetera, eccetera Cosa so sti cosi? What? Che mostro è questo? Ah, è un granchio tipo Aspetta Non mi dice però di che mod è Oddio, è fighissimo Oddio, sì, me l'aveva detto Ma sono scomparso subito dopo Davvero fatto molto bene Andiamo un po' a vedere E là? Ah, è un tipo un mostro archeologico Dov'è che avete trovato il lago? Eh, sì Guarda, guarda qui Qui ho trovato Un laghetto Aspetta, vedo se c'è della clay Oddio, qua c'è una casetta Sand, sand Eh, sono le casette della witchery, credo C'è pochissima clay No, perché c'è qui di romperla con questo? Ho rubato delle cose Me ne sto andando Bravo, attento ancora Torna la padrona Perché torna? Ehm, beh, sì Quelle case sono abitate Dalle streghe Ok, sto trovando un po' di clay Però non è tantissima E la parte più brutta è che Stando sott'acqua Aspetta, devo fare una cosa del genere Sento i blocchi Ce li ho Ehm, stando sott'acqua ci metto più tempo Eccola la stronza Eccola C'è una strega qua È più stronza delle altre Cioè, è tipo blu Ehm, sì Sono particolari quelle della witchery Non so perché le abbiano cambiate Forse sono più potenti E il loro drop Cioè, quello che trovi nelle case Non serve nemmeno a tanto Se poi vai a vedere Poi ho anche la trasformazione di the scorpion Ah Mi ha ucciso per sbaglio Sì Vabbè, comunque Ehm Cosa Cos'altro possiamo Craftare Ehm Allora Se adesso vieni un attimo qua da me Eh Ti passo la clay E Tu cominci Aspetta Devo ricordarmi come si fa però Ah, ho capito Guarda qua c'è un tool forge Se guardi Ehm Il libro nero Ti dice come si crafta Come si craftano Ah, come si chiama Ehm Gli stone bricks per la thinkest construct Nel libro nero Libro nero Ehm I shared bricks Sì, i shared bricks Esatto, quelli Eh, devi Devi cuocere Devi cuocere qualcosa La grow wood Ehm Ah, sì La grow wood si fa con la sabbia Ah, quindi prendi un po' di sabbia Si fa con la sabbia Con la gravel Con la gravel Vero, vero, vero E con la clay La clay la sto prendendo Allora Ho, ho, per fortuna Ho trovato una bala Nella casa della strega Posso rompere Ok Raga, i primi episodi Saranno molto craftosi Quindi Ehm Sì, perché dobbiamo farci tutta la roba Eh, non possiamo farci nulla Poi vabbè Costruiremo la casa Andremo Poi faremo la casa E andremo Eh, esatto Andremo pure nello spazio E' una cosa io Comunque raga Continuate a scrivere gli obiettivi Mi raccomando Che più belli Saranno scelto Circa una ventina Diciamo Però se ci sono anche più belli di venti Anche di più Dipende da voi E da quanta fantasia avete E da quanta conoscenza delle mod Ok, io ho preso un sacco di sabbia Anch'io ne ho preso un po' Adesso serve la gravel Ok, io ho 34 po' di sabbia, arrivo Ah, mi serve un po' di gravel Tu sai dov'è della gravel? Ah, l'avevamo trovata nella gheta Ti ricordi? Sì Senti un mozomi piccolino Mi sono commentato Qua mi sa Qua mi sa che c'è la gravel Eccola Tataradà Ha bisogno romperla? Sì Sì, con la pala Quanta ne hai? Cioè, quanta c'è che sta? Eh, tanta Buono, buono Ah, qua c'è del gravel ore Di ferro Perché qua, praticamente, aggiunge C'è una mod che aggiunge appunto questi Questi Oddio Questi ore di gravel Che sono utilissimi Ma no, ma perché non riusciamo ancora a trovare del diamante? Eh, il diamante è... Non è che si trova così Eh, ma in questo pacchetto sì Cioè, calcola che quando ci avevo giocato io In un'oretta di scavo Avevo trovato tre stack di... Portacci Mi sono avvelenato Mi sono toccato nell'acqua quella velenosa Quale? Uno Zero Vicino a noi c'è un laghetto Provo vicino casa Che è arancione Ah, eccolo Sì, sì Eh, bisogna stare attenti a non capire Non so che acqua sia È strana, non c'è andare perché sono tabelenti Non lo dico Allora Allora, adesso crafto Passami un po' la gravel Eh, sì Tieni Va messa in blocchi la clay? Sì No La clay no Va messa la... La cacca della clay là La pallina? Esatto L'avevo craftato il blocco Vabbè Tra mai Allora Basta che vedi sul libro comunque Così E la gravel Ok Abbiamo Trenta Quei blocchi strani Trenta di grout Ma non si può passare dalla clay no Ah sì, basta romperla giustamente Quelli li devi mettere nella fornace Li devi cuocere Va Allora Così Ok Ok, esatto Metti a cuocere Ora ci serve solo altra gravel E quindi adesso stiamo facendo Stiamo facendo i shared bricks Che ci permettono qui di costruire la fornace della... Ah, metti a cuocere anche della cobblestone Che ci serve la stone Sì, ok Ci serve un bel po' di stone Eh, ma io non ne ho tanta, eh Di cobblestone Eh, dovrebbe stare anche un po' nella... Nelle... Giusto Nelle ceste Nelle ceste Le prendo Dai Dai, faccio una fornace Un po' di gravel serve Ok Allora qua faccio così E poi ogni tanto ci sono tipo delle spiagge di gravel Quindi sarebbe davvero comodo trovarne una Quanto tin Eh, ma in questo bioma si vede che non ci sono molti parti con la gravel Eh, è quella che ci serve di più però In questo momento è essenziale Ho capito Allora Oh, ma qua ci stanno tipo dei... Delle canne da zucchero giganti Prendi, potrebbero sempre servirci in futuro Stone, marble... Oh, ho trovato la spiaggia di gravel Buono, vai Oh, così Aspetta, adesso arrivo e ti aiuto E dove sei? Eh, teletransportati Ok Oddio ci metto Oddio quant'è grave Io ho la pala Sì, sì, anch'io Oddio, sta rompendo Trasformo in persona normale perché sennò qua io Ta Aspetta, eh Se avessimo l'escavator Eh, che è una pala che escava tre blocchi per tre Eh Avremmo già finito Ok Oddio, guarda questo fiore Guarda questo fiore Eh, lo so L'avevo già visto Candy flower No, scusi Oh yeah Grazie T'ho fatto malissimo secondo me No Si può mangiare, mi sa Vediamo No Però dice food plus Ma che cosa serve? Boh Ah, boh Allora Mi serve il libro Quello nero Così iniziamo già con questi sered bricks A craftare un po' di roba Allora, innanzitutto Dobbiamo craftarci I I brick che si craftano mettendone Mettendoli, visto quella crafting table piccolina? Sì Ecco, prendola tutta E si fanno i sered bricks che ci servono Adesso dobbiamo fare la fornace Allora, ci serve craftare Un botto di sered bricks E poi Posso fare una parte di fornaci Eh, fai lo smelteri controller Smelteri controller e smelteri drain Io intanto faccio Ah, se facciamo più fornaci Smelteri controller C'è una cosa che aumenta la velocità dei Smelteri controller, fatto Non mi ricordo come si chiama E anche lo smelteri drain Sì E me serve Eh ma me serve la roba Che cosa ti serve? Servono Cioè, le cose che stanno cuocendo Adesso faccio più fornaci C'è red brick Quindi devo aspettare Mi serve un po' di stone Stone, 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 stone Eccola No dai, c'era anche qui della gravel Ok, adesso faccio quello Quell'altro Ok, perfetto Allora Così Così E viene lo smelteri drain Eccolo qua Poi dopo cosa c'è da craftare? Poi dopo c'è da craftare Una cosa molto importante Che è Ehm Lo share Che tank E lo share The glass Ehm Cosa serve per farlo? Allora Il tank Si fa con Un pezzo di vetro Al centro E intorno Tutti i cosi Che stanno cuocendo E le share Prendo un po' di sabbia Per fare il vetro Vedi quante str- No, mi cerca la pala Se vai lì Tu hai la pala ancora intatta? Si Aspetta, ci penso io a questo O mio strunzo Ok Se vai da quella parte Guarda da là Si C'è un lago pieno di sabbia Prendine un po' Qua? Ah, interessante Ok No, è tutto normale Ahia Cosa si è sentito? Cosa? L'esplosione del creeper No, non l'ho sentita Vabbè, sto bene Oddio, mi sembrava fosse iniziato a piovere Sto vedo per me stagliare Allora, allora Cosa ci serve? Ci serve un bel po' di sabbia Per fare altri growth così Ah, sì? E qui la registrazione si interrompe Perché? Perché come al solito Fraps fa i capricci E non ha registrato la parte in cui montiamo la fornace Quindi avete visto tutti i crafting e roba del genere Ma non avete visto come si monta la fornace Come dovete fare per vederla? Basta che andate nel video di The Scorpion E lui farà vedere passaggio per passaggio Come l'abbiamo montata Come è stata strutturata E da lui ci saranno anche i saluti Che io devo fare con questo mio solito black screen Cioè, tipo Ogni video c'è un black screen Però vabbè Quindi Scusate perché non vi ho fatto vedere il montaggio della fornace Però Tranquillamente andate sul video di The Scorpion Non lo potete vedere Mi raccomando Iscrivetevi al suo canale Perché è un bravissimo youtuber Quindi Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti